Il bimbo di otto anni, ma in realtà due anni e mezzo, quindi già vedete l'informazione che gli hanno dato? Segnatela sta cosa. Allora, malgrado affidata a una famiglia sarda non è stato mai preso in consiglia dalla nuova famiglia. Questo lo dice il policlinico all'assessore, ma è una farsa, perché il policlinico sa perfettamente che i genitori stavano aspettando i presidi che non gli arrivavano mai. Il policlinico di Messina, dietro input del Tribunale dei minorenni e del garante dell'infanzia, ha disposto il trasferimento presso l'ospedale di Cagliari. Il trasferimento, non essendo però voluto dai genitori, altra cazzata, altra palla, ma non dell'assessore, di quello che gli hanno riferito dal policlinico, sarà effettuato dal policlinico di Messina con l'ausilio della Croce Rossa. Quindi dovrebbe essere questo, però io ho telefonato stamattina al policlinico e il policlinico ancora non sapeva niente. Moise a due anni e mezzo è nato a Polistena, ha problemi gravissimi di salute, dopo una permanenza di quasi un anno all'ospedale di Polistena, adesso è al policlinico di Messina. Necessita di un trasbordo a Cagliari, dove c'è una comunità pronta ad accoglierle all'assistenza medica, però dopo un'ordinanza del magistrato, del presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, il bambino ancora a distanza di un anno e mezzo non ha lasciato il policlinico di Messina. Mi sono accertato di quello che si può fare, serve un volo per accompagnarlo con assistenza medica. Di norma, di norma, secondo linee guida che non sono legge, ma che sono linee guida, l'ospedale che lo ha in carico, lo deve trasferire fino a destinazione. Questa è, diciamo, le linee guida diffuse dappertutto. Quindi, voglio dire, per logica, per linea guida, con un anestesista rianimatore di accompagnamento. Insomma, tutto qua. Ebbene, proprio perché non è in imminente pericolo di vita, ma in realtà lo è, non possono prendere aerei pubblici di Stato per trasferirlo. Io faccio appello alle istituzioni perché Moise non è figlio di un dio minore. Moise è un bambino di due anni e mezzo, bellissimo, che ho visitato e che chiede soltanto di avere i propri diritti rispettati. Per cui il mio appello alle istituzioni è che qualcosa si muova e che qualcosa intervenga e il bambino possa raggiungere la destinazione prima che sia troppo tardi, perché piangere dopo non serve a nessuno. Moise è figlio di gente indigente, ma voglio sapere se nella storia d'Italia, e sicuramente sì, e sicuramente sì, qualche volta sia capitato al figlio di un potente di avere bisogno, voglio vedere se l'aereo si è alzato e in quanti minuti si è alzato per andare a raccattarlo. L'Acatus è figlio di questo garante, l'Acatus è figlio di quelle persone che in questo momento vogliono aiutarlo. Per cui vi ringrazio di aver accettato di partecipare e vi prego di darmi una mano per quanto più potete. Diffondetela più che potete. Grazie.